Buonasera a tutti, benvenuti a questo primo evento della nuova stagione di VIS, questo è il terzo ciclo di attività che iniziamo. Come sapete VIS sta per Virtual Immersion in Science ed è il programma di divulgazione scientifica o di outreach della scuola normale che copre molte delle aree di attività e di ricerca della scuola. Quest'anno abbiamo aggiunto alle storiche cinque aree, abbiamo aggiunto due nuove aree che sono quella di biologia e quella di storia moderna e contemporanea che vanno ad aggiungersi a quella di archeologia, biofisica, cosmologia, particelle e chimica che erano già preesistenti. Stasera quindi iniziamo una delle attività di VIS che sono i cicli di conferenze divulgative però VIS non è fatto soltanto da questo, è fatto anche da altri tipi di attività e la prima è quella delle visite al Cave 3D che è un sistema di immersione virtuale, un teatro virtuale di realtà virtuale appunto in cui mostriamo risultati delle nostre ricerche abbiamo poi un'altra attività che ha riguardato un concorso chiamato una giornata da ricercatore per giovani ragazzi delle scuole superiori che possono fare un concorso per cui poi vengono a passare una giornata da ricercatore qui alla scuola quest'anno abbiamo aggiunto altre due attività di cui siamo molto orgogliosi e che vogliamo presentarvi tra parentesi avete tutti un libricino sulla vostra sedia che illustra tutte le cose che vi sto dicendo quindi poi potete trovare tutti i riferimenti abbiamo aggiunto due nuove attività che sono appunto la Oculus Rift Experience l'Oculus Rift è un caschetto che permette di fruire di una realtà virtuale aumentata con la quale si possono di nuovo visualizzare risultati di esperimenti ed altri tipi di esperienze diciamo in realtà virtuale e poi abbiamo anche aggiunto un percorso che chiamiamo percorso tematico percorsi nella storia che tramite una visita alle nostre biblioteche e ai nostri archivi permette di approfondire un certo tema che verrà scelto di volta in volta questa attività e tutte le informazioni le trovate sul nostro sito vis.sn.it che vi invito a guardare volevo anche cogliere l'occasione per ringraziare tutte le persone della scuola che con grandissimo entusiasmo ci aiutano a sviluppare vis e in particolare i coordinatori di ogni area i nostri perfezionanti, gli allievi che ci aiutano in tutte le attività e poi tutti i centri, la biblioteca, l'archivio e l'ufficio relazioni esterne ed altre ancora quindi grazie a tutti loro, senza di loro questo non sarebbe possibile niente di tutto questo sarebbe possibile lascio quindi a breve la parola non prima di aver ricordato che venerdì avremo anche un'altra attività che sono gli eventi speciali di vista partecipiamo alle commemorazioni per il settantesimo anniversario del bombardamento atomico di Nagasaki e Hiroshima e quindi avremo qui in normale uno degli eventi di questa manifestazione che è sponsorizzata primariamente dal comune di Pisa ma anche dall'università e da altri enti di Pisa e quindi in questo contesto avremo un evento con anche una sopravvissuta del bombardamento che verrà qui a raccontarci di persona la sua terribile esperienza vi ricordo che alla fine avremo un piccolo brindisi per inaugurare la nostra stagione e detto ciò lascio la parola al dottor Ratto che è il nostro coordinatore vis dell'area di biofisica che introdurrà il nostro speaker il direttore Fabio Beltram è ovviamente un grandissimo piacere e un onore inaspettato presentare Fabio Beltram mi piace ricordare alcune delle tappe fondamentali si è laureato in ingegneria sorprendentemente nel 1985 per poi andare ai Bell Laboratories a Murray Hill in New Jersey di cui forse poi è importante dire qualche cosa i Bell Laboratories sono stati credo uno dei posti dove è nato il mondo moderno dove viviamo i otto premi Nobel sono stati vinti lì è stato un posto molto eterogeneo la radiazione di fondo è stata scoperta da due ricercatori di Murray Hill il transistor è stato scoperto lì nel 2014 è stato dato un Nobel per la microscopia alta a risoluzione Eric Betzig e il lavoro l'avevo iniziato proprio ai Bell Lab in questo periodo Fabio è anche riuscito a laurearsi in fisica a Bologna se non sbaglio mi chiedo dove abbia trovato il tempo ma questa è una caratteristica comune della sua vita è diventato professore alla scuola normale nel 1992 nel 1995 è nato il NEST che è il laboratorio che tuttora dirige che è un laboratorio che mi viene da pensare un po' sia stato ispirato ai Bell Laboratories molto in piccolo naturalmente perché è un posto molto eterogeneo dove la fisica della materia insomma la fisica della materia condensata ha iniziato un po' a sposarsi e incontrarsi con la biologia cellulare e con la biofisica e quindi in realtà se esiste l'area di biofisica è un po' perché esiste il NEST indubbiamente siamo molto veramente felice di averti qua e aspettiamo di sentirti grazie grazie ad Andrea e grazie a Jimmy tra un po' mi siedo perché la presentazione richiede un'interattività con il mio pc e quindi volevo farmi vedere perché dubito che mi vediate mentre sono qua sotto quindi vi ringrazio molto di essere venuti il titolo della presentazione avete visto è gli elettroni del silicio e gli elettroni delle proteine non so cosa abbia evocato questo nella vostra testa e quanto lo colleghiate con la biofisica per spiegarvi questo titolo e cosa voglio dire vi chiederei di fare un piccolo sforzo di immaginazione e di evocare l'immagine mentale nella vostra testa di un elettrone tempo sufficiente per evocare l'immagine di un elettrone penso che in una buona parte il vuoto e il nulla il panico sono leciti naturalmente mettendosi in una buona parte di voi si è comparsa una sferetta una pallina credo una pallina piccola non so se avevate la scala delle distanze nell'immagine mentale una pallina piccola grigia forse grigia metallica non lo so blu, gialla non lo so quelli di voi che sono più sofisticati e volevano fare bella figura con se stessi l'hanno fatta ruotare perché pensavate allo spin mettetelo è una visione davvero primitiva è una divisione è una visione vecchia di più di un secolo è una visione che è un problema perché come fate a conciliare questa visione una pallina dura forse rotante col fatto che gli elettroni nel silicio fanno funzionare questo computer fanno funzionare tutte le società dell'informazione gli stessi elettroni nelle proteine fanno funzionare i meccanismi cellulari tutti i processi biologici ci fanno vivere come fa una pallina a fare tutte queste cose a essere così diversa da se stessa c'è qualcosa che non va evidentemente questa chiacchierata serve a proporvi un'immagine diversa a costruire un'immagine mentale diversa un'immagine mentale che sia utile per capire perché il silicio si comporta in un modo e la proteina in un altro e perché ci possiamo aspettare qualcosa di interessante e di divertente ancora di più di quello che già abbiamo visto in questi ultimi decenni e quindi questo è il motivo faremo questo nello spirito credo di Vis senza mostrare una singola equazione senza dare per scontato quasi nulla facendo innervosire alcuni dei fisici presenti in sala ma questi sono i piccoli piaceri della vita e utilizzando molto le immagini prima di tutto quindi devo dirvi come sono prodotte le immagini che vi mostro quindi devo mostrarvi uno strumento che sarà lo strumento che utilizzeremo per costruire l'immagine mentale che voglio costruire insieme a voi questo strumento si chiama è un microscopio naturalmente si chiama microscopio effetto tunnel tra un po' devo cominciare a lavorare sulla tastiera quindi scompaio vado qui al fondo in fondo non mi vedono vi saluto ma ci vediamo più tardi il microscopio effetto tunnel è un oggetto che è stato inventato nel 1982 quindi una cosa abbastanza giovane pensate quattro anni dopo 1986 è stato dato il premio Nobel a chi l'ha inventato si è capito subito che era una cosa abbastanza importante come funziona funziona in maniera abbastanza semplice e si può illustrare con qualche animazione in maniera molto intuitiva pensate a un cono metallico così perfettamente conico che finisce con un singolo atomo una punta perfetta non è assolutamente così ma non è importante così è più facile immaginarlo e ce lo immaginiamo così noi spostiamo con grande precisione non ha importanza come questa punta metallica a una piccolissima distanza da una superficie che è un cristallo un cristallo di atomi azzurri li vedete con le pallocchie azzurre là sotto su questo cristallo sono spruzzati alcuni atomi verdi atomi diversi dagli altri bene il microscopio effetto tunnel funziona grazie all'effetto tunnel di cui parleremo tra poco grazie a questo effetto noi possiamo trasferire gli elettroni che sarebbero quelle righettine rosse in questa simulazione facciamo passare della corrente per intenderci tra la punta e quella superficie quello che avviene per la proprietà di questo effetto tunnel che spiegheremo tra un attimo è che la quantità di corrente che riusciamo a far passare è molto fortemente dipendente dalla distanza tra l'ultimo atomo azzurro e il primo atomo che c'è sulla superficie così sensibile che si vede la differenza rappresentata dal piccolo gradino che sarebbe l'atomo verde e riusciamo a vedere questa asperità sulla superficie ve lo faccio vedere adesso per davvero quindi vi mostro un filmato in cui guardiamo un microscopio effetto tunnel che sta lavorando lo guardiamo naturalmente con un altro microscopio lo guardiamo con un microscopio elettronico quindi non avremo la risoluzione che ci dà il microscopio effetto tunnel ma intanto capiremo come funziona ecco la punta ingrandiamo un po' questa è la punta di cui parlavamo prima c'è una superficie quella degli atomi azzurri che in realtà in questa immagine è arancio e sarebbero peraltro degli atomi di carbonio quello è un cristallo di grafite e poi delle goccioline metalliche sopra l'hanno messo un atomo perché l'atomo non si sarebbe visto con questo microscopio vi faccio vedere una cosa un po' più grossa un metallo fuso che poi si è solidificato e ha fatto questa gocciolina avete visto la punta che si spostava e noi misuravamo la corrente in una zona come questa dove il microscopio elettronico ci mostra una superficie uniforme non interessante invece il microscopio a effetto tunnel ci mostra gli atomi di carbonio la distribuzione regolare di atomi di carbonio che costituisce la grafite quindi avete visto un atomo e c'è un primo passo per cominciare a vedere gli elettroni ci stiamo avvicinando al tipo di risoluzione che ci serve per vedere questa risoluzione per vedere questo oggetto dobbiamo modificare un pochino la materia e dobbiamo costruire insieme una nanostruttura per fare questo prendiamo gli atomi verdi sulla superficie del cristallo azzurro e disponiamoli opportunamente una cosa interessante che forse notate in questa animazione non bellissima ma perdonatemi è che a temperatura ambiente gli atomi verdi non stanno fermi hanno sufficiente energia per saltellare sulla superficie questa è una delle tante cose che bisogna guardare con attenzione quando si scala dal grande al piccolo noi tendiamo a immaginare che passando da un oggetto grande dal mondo macroscopico al mondo nanoscopico basta pensare tutto più in piccolo basta scambiare la scala di grandezza tutta questa conversazione serve a mostrarvi che non è così cambia tutto per esempio mentre questa bottiglia sta ferma appoggiata su questo tavolo quell'oggetto così piccolo non sta fermo e quindi non riusciamo a costruire un bel niente in queste condizioni sperimentali qui che si fa si raffredda tutto raffreddando a sufficienza e questo è veramente freddo questa è la temperatura a cui bolla l'elio liquido siamo circa a meno 270 gradi centigradi quindi una temperatura molto bassa ecco che gli atomi verdi se ne stanno fermi bene allora cominciamo a costruire questo nano oggetto si tratta di disporre gli atomi verdi nel modo che desideriamo altra piccola simulazione con gli atomi verdi il cristallo sotto si è sbiadito scusatemi ma non è importante vi ricordate il trucchetto della penna BIC caricata sulla maglia di lana per spostare i pezzetti di carta ecco usiamo esattamente quel trucchetto lì su una scala un po' più piccola ecco la punta dell'STM che prende un atomo verde alla volta utilizzando lo stesso trucchetto che sarebbe elettrostatica ma non è importante e andiamo a formare una circonferenza quello che ci interessa è vedere cosa succede intorno a questa nanostruttura rappresentata della circonferenza c'è tutto un insieme di onde di cose in questa simulazione però essendo una simulazione potrebbe essere tarocca e quindi non vi fidate molto bene vi faccio vedere l'esperimento vero non è un filmato ma sono quattro foto prese con l'STM in sequenza della costruzione di questa circonferenza ecco che vedete quando la circonferenza è formata si trova esattamente quel pattern della simulazione che avete visto tutta una serie di cerchi concentrici all'interno altri fenomeni intorno se cambiamo la forma con cui disponiamo gli atomi impariamo che gli atomi non sono né verdi né blu nel STM ma sono tutti dello stesso colore se cambiamo la distribuzione per esempio la mettiamo a forma di stadio ecco che c'è tutto un diverso pattern come si dice all'interno ho inserito così tanto su questo pattern che chiaramente voglio arrivare a qualcosa ecco vorrei che voi cominciaste ad apprezzare il fatto che vi ho mostrato un elettrone che all'interno di quella circonferenza quell'insieme di cerchi concentrici è il primo elettrone della vostra vita non è una pallina e mi spiace non gira se disponiamo diversamente gli atomi ecco che l'elettrone cambia fra virgolette forma lo so non è non è il modo standard di guardare a questa cosa ma lavoriamoci sopra visto che l'abbiamo visto c'è misurato uno strumento che è capace di guardare queste cose cominciamo a guardare per essere del tutto precisi quell'elettrone un elettrone a disco che vedete qui è un elettrone che è due dimensionale vive in un foglio ed è fatto come una pizza piccola nanometrica quell'ato ha una forma leggermente diversa ma è sempre un foglio due dimensionale di spessore verticale zero così sono fatti gli elettroni ahimè lo sapevate in realtà lo sapevate quando un elettrone viene confinato in uno spazio molto piccolo fa delle cose strane questo lo sapete tutti l'avete visto tutti quanti perché l'avete visto negli atomi perché il silicio si comporta diversamente dal rame alla fin fine c'è un nucleo e una manciata di elettroni intorno eppure si comportano diversissimamente questi elettroni beh il trucco è stato proprio qui quando gli elettroni sono confinati strizzati in un piccolissimo volume ecco che esibiscono questa proprietà in questo caso il caso dell'atomo è il nucleo che ci pensa ad attirare gli elettroni in una zona molto piccola come conseguenza ecco che gli elettroni possono esistere solo in certi stati configurazioni orbitali chi di voi è fresco di chimica si ricorda anche i nomi di questi orbitali S P fantastico potremmo recitarli in sequenza hanno addirittura un nome quelli sono gli elettroni quelle nuvolette del libro di chimica è la stessa cosa della pizza che avevo mostrato io sono gli elettroni anche chimica non ha mai mostrato delle palline bene la nostra specie circa negli anni 80 ha imparato a fare lo stesso ha imparato a confinare le particelle gli elettroni con delle barriere chi simbolizza c'è da due muraglie di questo tipo qua quando gli elettroni sono strizzati tra queste due barriere abbiamo quindi una nanostruttura ecco che gli elettroni che non sanno fare nulla di diverso esistono solo in certi stati solo in certe configurazioni che non si chiamano più SPD hanno altri nomi a volte numeri a volte vettori a volte non hanno proprio un nome e assumono quella forma che abbiamo visto in questo caso essendo una sezione traversale unidimensionale una biscia non più una pizza come abbiamo visto precedentemente ma il principio è esattamente lo stesso dobbiamo capire questa cosa se cominciamo a capire a pensare agli elettroni in questo modo ecco che la realtà diventa incredibilmente più semplice per esempio il misteriosissimo effetto tunnel è una cosa assolutamente banale perché l'effetto tunnel si chiama effetto tunnel perché circa un secolo fa persone assolutamente geniali ripeto geniali e che hanno scoperto questi effetti avevano in loro mente ottocentesca il fatto che l'elettrone fosse quella stessa pallina che qualcuno di voi nascostamente pensava precedentemente a questo punto se l'elettrone passava attraverso una barriera l'unica soluzione è che ci fosse un buco come nel monte bianco se volete attraversare il monte bianco o andate sopra ma se volete passare a mezza altezza l'unica soluzione è che qualcuno trivelli un bel buco altrimenti non ci si passa e quindi l'effetto tunnel dal nome è effetto di passare attraverso un buco nelle barriere ma non c'è nessun buco l'elettrone non ha questo problema perché lo vedete già in quel disegno là così semplice vi ho detto che quelle sono barriere che l'elettrone non può attraversare eppure l'elettrone c'è andato l'avete visto? cosa vuol dire? che se le barriere sono sufficientemente sottili l'elettrone non ha nessun problema ci passa attraverso e esiste anche dall'altra parte le barriere non c'è buco non c'è effetto tunnel l'elettrone funziona così se usiamo le immagini mentali giuste e il linguaggio giusto che ovviamente non può essere il nostro linguaggio che abbiamo messo a punto in millenni su scala macroscopica ci vuole un altro linguaggio linguaggio tecnico e linguaggio della matematica ma se non vogliamo usare quello e oggi non vogliamo usare quello possiamo comunque che arrivarci con l'intuizione se cominciamo a pensare in modo giusto alle cose quindi come funziona il microscopio effetto tunnel ma sostanzialmente la punta del microscopio sarebbe questa zona qui il metallo dove stanno gli elettroni la barriera sarebbe l'aria grazie all'effetto tunnel scopriamo che gli elettroni in realtà stanno anche qui fuori quindi il nostro esperimento sarebbe questo qui abbiamo preso un qualche elettrone che potrebbe essere quello disegnato qui e questo elettrone riesce a sondare la presenza della superficie e ci si può trasferire non c'è bisogno del buco non c'è bisogno del tunnel semplicemente si comporta da elettrone cerchiamo di approfondire un po' questo concetto allora in primo luogo abbiamo già l'ingrediente che ci permette di parlare tra un pochino di biofisica in un senso moderno perché abbiamo capito che possiamo costruire le proprietà degli elettroni a seconda della forma che diamo loro a seconda del nanosistema che costruiamo diverso nanosistema diversa proprietà e su questo sarà basata tutta la chiacchierata sulla biofisica che stiamo per cominciare a fare però siccome vi ho titillato un po' sull'effetto tunnel vorrei continuare a lavorarci sopra insieme a voi eccovi una proposta di un di un elettrone visto all'alto o visto di lato visto all'alto è proprio una bella palletta l'ho fatta grigia e siamo tutti contenti va bene questa palletta la facciamo partire andare verso destra è chiusa in quella scatola blu come vedete ma quella riga nera rappresenta una barriera d'accordo piccola previsione su cosa succederà allora in base al mondo pre-quantistico il mondo classico se la barriera ha certe caratteristiche l'elettrone non passa in base al sistema che abbiamo appena visto questo nuovo modo di vederlo che richiede che la barriera sia sufficientemente sottile tutta una serie di altri dettagli che ci interessano poco è possibile che l'elettrone passi l'abbiamo visto prima col microscopio a effetto tunnel so già che tutti fate il tifo perché l'elettrone passi perché ormai vi ho convinto spero allora facciamolo partire vediamo cosa succede veramente eccolo che va dunque fermo la simulazione perché l'elettrone scusatemi è sia passato sia non passato quindi c'era un terzo questo caso datur questa volta il terzo c'era l'elettrone ha fatto questo quindi l'elettrone interagendo con la barriera è passato e anche non è passato attenzione non è che l'elettrone a volte sta a destra a volte sta a sinistra gioca a dadi e tutte quelle cose là no 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 non ho detto questo l'elettrone è sia passato sia non passato sia da una parte sia dall'altra così fa l'elettrone se lascio andare il filmato e faccio andare a sbattere l'elettrone contro le pareti succedono cose bruttissime e quindi lo fermerò subito perché fa delle cose davvero sconvenienti tutta una cosa sfrangiata orrenda non è rientrato chiedo scusa allora lasciamo perdere andiamo avanti questo l'abbiamo discusso vediamo un caso leggermente più complicato perché questo era troppo semplice e consideriamo il caso adesso di una barriera sufficientemente larga così che l'elettrone non ce la faccia passare per effetto tunnel la facciamo bella larga ma dispettosi facciamo due buchi vedo l'esperimento di Young nella testa di molti di voi è quello sì è quello però è fatto con gli elettroni questa volta la stessa cosa naturalmente quindi se io mando un elettrone che faccio molto grasso in questo caso in modo che sia ben visibile ma sempre tondo quindi potete stare tranquilli e lo mando a sbattere contro questa barriera ormai la previsione è facile quindi l'elettrone vi ho detto che non può passare attraverso la barriera perché è troppo spessa ha due buchi e quindi ormai lo sapete attraverserà tutti i due buchi contemporaneamente si comporta da elettrone non da pallina che deve scegliere dove andare allora vediamo se è vero queste sono simulazioni naturalmente corrette non sono giochini faccio partire lo fermo subito quindi vedete si è infilato in entrambi i buchi contemporaneamente contemporaneamente in entrambi e se lascio andare avanti fa delle cose molto brutte di cui mi scuso e poi si ricompone perché ricomincia il filmato e non è che farebbe così semplicemente va a sbattere contro le scatole fa quelle cose al bordo della scatola fa delle cose brutte e poi ha un suo futuro gramo questo che abbiamo visto quindi l'elettrone vede in modo diverso il mondo esploro in maniera diversa la realtà da come ce lo possiamo immaginare noi da quello che fa una palla da tennis e vorrei farvi notare come queste cose hanno un impatto reale non sono solo giochini per vedere filmanti divertenti elettroni grassi e così via ma davvero sono cose che stanno cambiando la nostra vita adesso mentre ne parliamo e forse se cominciamo a pensare a quello che sta succedendo con questo tipo di punto di vista capiremo meglio la realtà che sta intorno a noi come si può usare questa proprietà dell'elettrone dico meglio come viene usata in questo momento questa proprietà dell'elettrone viene usata per farci i calcolatori i computer i computer nuovi di cui avete sentito parlare i computer quantistici e di questo parleremo brevemente prima di finalmente parlare di biofisica vi faccio vedere una struttura reale costruita in un laboratorio della scuola che realizza l'effetto che io sto per mostrarvi quindi vi faccio vedere delle immagini di un materiale che contiene un sistema elettronico due dimensionale un foglio di elettroni eccolo qua ci sono zone chiare zone scure che sono contatti elettrici semiconduttori poco importante vedete la scala la scala è ancora grande quelle sono 200 micron io ho parlato sempre di cose di nanometri decine centinaia di nanometri cose piccole dove questi effetti diventano grossi e si vedono quindi chiaramente la zona importante sta da qualche parte qui dentro ingrandiamo un po' 10 micron non ci siamo ancora ha venuto scentrato terribile ingrandiamo un po' eccolo qui siamo nella zona buona allora cos'è questo questo era il foglio di carica due dimensionale che abbiamo visto prima che è stato ritagliato opportunamente d'accordo la zona scura che è sufficientemente larga la presenta la barriera attraverso la quale non funziona l'effetto tunnel l'elettrone non ce la fa a passare da qui a qui rimane confinato in questa zona quindi l'elettrone arriva trova questa strozzatura che può attraversare a questo punto sapete già cosa fa va contemporaneamente sopra e sotto a questo ostacolo quel buco centrale dopodiché si trova costretto a trovare un'altra strozzatura e queste sue parti devono ricomporsi per poter attraversare bene a seconda di quello che succede nella parte alta e nella parte bassa questo è possibile o non possibile cioè può succedere che le due parti si ricompongano chi di voi fa linguaggio questa e l'interferenza mi aspettavo costruttiva entusiastico ha detto lui ma non entusiasticamente e oppure l'interferenza può essere distruttiva l'elettrone non si può ricomporre cosa volete che faccia l'elettrone se non si può ricomporre torna indietro in buon ordine e non può passare attraverso il buco che c'è ma non è per lui quindi abbiamo una situazione in cui l'elettrone può passare o non passare ci può essere corrente o non essere corrente in base a questa proprietà esotica dell'interferenza che vi ho mostrato prima come funziona un transistor un transistor veramente spiegato male funziona come un tubo attraverso il quale passa della carica e siccome io non sono bravo con tanti elettroni ve ne faccio sempre vedere uno solo alla volta ecco un tubo attraverso il quale passano gli elettroni quando passa la corrente noi diciamo il dispositivo è acceso e gli facciamo codificare il numero uno oppure possiamo intervenire con la forza bruta fermare gli elettroni non passa più la corrente il transistor si è spento e noi diciamo il nostro transistor sta codificando il numero zero ecco perché si parla di logica binaria i computer lavorano tra zero e uno commutando si dice tra zero e uno così funziona il transistor fermare gli elettroni richiede energia richiede tempo fa sì che io prima di portare qui questo computer l'ho tenuto in carica per essere sicuro che non mi si scaricasse e questo funziona con la velocità che la Apple ha deciso di rendermi disponibile in questo momento per i pochi soldi che ero disposto a spendere bene si può ottenere lo stesso effetto passa e non passa anche in base al principio di prima abbiamo detto l'elettrone può passare o non passare in base a questo effetto più sottile a questo effetto quantistico ho leggermente cambiato la topologia ma la stessa cosa ve ne accorgete un percorso singolo un percorso singolo un percorso doppio è il caso precedente ci può essere questa situazione delocalizzazione localizzazione questo è quando passa la corrente sarebbe lo stato on sarebbe lo stato logico per esempio uno oppure ci può essere questa situazione si delocalizza e non passa attenzione luogo fisico è esattamente lo stesso semplicemente sono cambiate le condizioni le esperienze che l'elettrone ha avuto nella parte precedente tecnicamente si dice la fase è variata in modo diverso guardate però che non c'è trucco perché sia in questo caso se riesco a fare questa operazione difficilissima esatto sia in questo caso sia in questo caso ecco l'elettrone stava contemporaneamente in tutti e due i canali queste sono sempre simulazioni che sembrano un po' creato e animato ma sono conti esatti fatti con metodologie giuste per calcolare queste cose quindi in questo caso passa in questo caso non passa proprio in base a questo principio un po' esotico e abbiamo un transistor quindi che si spegne e si accende con questo diverso metodo quello che è interessante di questo è che cambiare la fase costa meno energia e costa molto meno tempo che cambiare quella barrierona che doveva fermare l'elettrone transistor come questi sono molto più veloci e sono capaci di funzionare per tempi estremamente lunghi con le batterie come dicevamo ma questo ci interessa fino a un certo punto in realtà io vi avevo detto promesso una cosa un pochino più interessante il computer quantistico beh il punto è in questa regione qui quando l'elettrone è perfettamente delocalizzato quanto vale il quantum bit bisticcio quanto vale il bit 0 o 1 perché qui lo sappiamo qui vale 1 qui vale 0 ma mentre siamo in questa regione e l'elettrone è delocalizzato quanto vale il bit la sapete già la risposta vale sia 0 sia 1 questo è un quantum bit i computer quantistici lavorano con bit che sono contemporaneamente 0 e 1 cosa che può sembrare totalmente inutile perché un calcolatore che fa i conti mettendo contemporaneamente tutti i numeri nella stessa frittata sembra completamente inutile ma non è così esistono dei algoritmi che si dice tecnicamente esistono dei modelli di calcolo che permettono di risolvere problemi classici quelli che interessano a noi estremamente complessi in modo molto efficace utilizzando i bit quantistici alla fine il bit quantistico verrà proiettato si dice sul risultato classico ma tutta l'elaborazione avviene in modo quantistico problemi irrisolvibili diventano risolvibili in questo modo c'è un solo problema che non c'è il computer quantistico ancora però è solo questione di tempo noi siamo fiduciosi che riusciremo noi qui o noi come specie riusciremo a fare questa operazione quindi possiamo costruire gli elettroni come vogliamo in questi sistemi possiamo dare la materia funzionalità che non possedeva in natura perché gliel'abbiamo data artificialmente costruendo gli elettroni con le caratteristiche che noi desideriamo c'è tutta una quantità di strutture si chiamano tutte nanostrutture che possiamo fare che danno proprietà sempre diverse le più bizzarre tra queste vi mostro anche delle cellule però qui anche qui si può fare la stessa cosa non c'è nessun motivo che non sia possibile cambiare quegli elettroni come gli altri elettroni perché sono la stessa cosa dovremmo forse usare qualche volta metodi diversi ma possiamo costruire gli elettroni come ci pare nel silicio e nelle proteine come diceva il titolo il potenziale è enorme e io voglio darvi alcuni esempi semplici sempre spero li troverete intuitivamente semplici e lo faccio sparando subito la mia cartuccia più potente che è questa questo è uno schema molto semplice di quello che sarà la medicina il prima possibile dico io ma comunque sperabilmente la nostra aspettativa è di vita questo è un oggetto un nano oggetto che è composto di vari blocchi funzionali e che è il farmaco del futuro si parla di nano medicina in questo caso questo è un oggetto che contiene vari domini in cui gli elettroni sono stati impacchettati nel modo giusto per dare loro la funzionalità che noi desideriamo ci può essere per esempio un dominio che si chiama targeting scusate la pigrizia non tradotto in italiano ma tanto lo capite bene quello è il dominio che dice al nostro organismo prendi questo affare e portalo nel fegato nel cervello dove desiderate poi ci è preso un altro dominio che si chiama sensore che dice ma qual è la situazione facciamo una diagnosi locale cosa sta succedendo in questo luogo in questo momento qui si tratta di impacchettare gli elettroni in maniera opportuna in modo che reagiscano all'ambiente nel modo giusto se possibile ci mandino un segnale e quindi magari c'è anche un dominio tipo agente di contrasto che dice qualcosa che possiamo leggere dall'esterno con una risonanza magnetica con qualche altro metodo se poi tutto questo ci dice bene abbiamo trovato una situazione patologica allora magari ci mettiamo un condominio che è un farmaco che solo in quel luogo agisce e fa in maniera molto mirata la sua funzione di questo parleremo adesso nel tempo che mi rimane di questo parleremo e vedremo alcuni esempi di come si possono costruire queste cose di nuovo siccome scelgo di usare immagini vi farò vedere cose che appunto sono mandano un segnale otticamente possibili possibile e visibile e quindi farò vedere qualche immagine di materiali che emettono luce ma sempre nell'ambito biologico e su questo ci baseremo parto da un altro premio Nobel perché è sempre bello partire da un premio Nobel vi fa capire che vi mostro cose serie che sono apprezzate della comunità questo è un premio Nobel del 2008 ancora più recente dell'altro premio Nobel per la chimica che riguarda questo animale qui è una parte di questo di questo animale di cui credo ci sia già parlato a vis in un'altra in un'altra occasione questo animale si chiama cuore a victoria una medusa non particolarmente interessante quello che è interessante di questa medusa è che al buio se la guardate emette della luce verde dal mantello ovviamente questo lo fa per motivi di medusa che a noi interessano il giusto non è che vogliamo approfondire questo aspetto però ci interessa che emetta questa luce verde come lo fa? insomma non voglio essere monomaniaco ma lo fa evidentemente perché questa medusa ha imparato a impacchettare gli elettroni nel modo giusto e l'ha fatto guarda caso in una proteina questa è la proteina vi vedo confortate avete riconosciuto la GFP bene questa proteina che è una piccola animazione divertente che si chiama green fluorescent protein appunto proteina verde fluorescente ha al suo interno eccolo qua un piccolo dominio che fa da filamento della lampadina che emette la luce siccome abbiamo detto qualcosa di specifico su come queste cose avvengono allora vi faccio vedere che facciano gli elettroni che emettono questa luce sono questi quindi montati sull'intelaiatura che vi ho mostrato prima quella che ho chiamato il filamento della lampadina questo è un elettrone come sempre che è delocalizzato in quel modo lì c'ha tutti questi domini cicciotti rappresentati molto bene in questo bel colore blu violetto quello elettrone che fa sì che esca quella luce quella luce verde che abbiamo visto avete già capito che basta modificare un pochettino questo elettrone cambiando parte di quella struttura cambierà la forma dell'elettrone e la luce anziché sarà verde sarà blu sarà gialla sarà rossa e ci sono infatti tutti i colori dell'arcobaleno ottenuti a partire da questa struttura quello che è interessante di questo ed è il motivo del premio Nobel perché se no non sarebbe stata così eccitante questa cosa è il fatto che prendendo il pezzetto di DNA della medusa che dice come si fa a costruire questo stato elettronico qualunque organismo può produrre lo stesso stato elettronico guardate che non è banale è bravissima la natura questo vuol dire che potete produrre figli verdi fluorescenti se desiderate o più prudentemente comprare dei pesci fluorescenti questo lo potete fare io ve lo consiglio un'illuminazione ultravioletta e un acquario di sardine assolutamente non interessante diventa una gialla una verde una blu e vi assicuro le sardine sono felici sono molto orgogliose di essere colorate non sono tristi stanno bene e vorrebbero essere comprate da voi più seriamente però si può utilizzare questo dna per degli usi molto importanti e ripeto in parte una cosa che è già stata detta credo dal professor Ratto in un altro incontro di questa serie è possibile perché noi vogliamo arrivare al medico quindi non al al pescipendolo o al è possibile studiare i processi biologici con grandissima precisione utilizzando questo sistema quello che è possibile fare è possibile insegnare alle cellule agli organismi interi a produrre una proteina di cui vogliamo sapere le proprietà e che per la nostra sfortuna non si rende visibile è possibile insegnare dicevo agli organismi a produrre la proteina che vogliamo studiare con già avvitata fra virgolette la lampadina verde fluorescente noi mandiamo il pacchetto di dna dentro l'organismo e questo produrrà l'oggetto che ci interessa con attaccato il segnale verde fluorescente che fa sì che anziché vedere una cosa poco interessante come questa quando guardiamo una cellula vediamo una cosa interessante invece come questa perché quelle luci verdi vogliono dire che lì c'è una proteina la proteina che a noi interessa esiste e sta in quel particolare luogo quello che è interessante è che ne vediamo una alla volta di queste proteine quindi abbiamo una precisione molecolare nello studio della vita c'è un filmato che è stato prodotto in un laboratorio della scuola che secondo me è molto carino e quindi ve lo faccio vedere devo dare credito al gruppo di persone che ha lavorato su questo sono Laura Marchetti Stefano Luin ma ci sono Francesco Cardareta e tante altre persone che producono queste cose quello che vedete in queste immagini per adesso è tutta sfocata non ci si capisce nulla lì c'è una cellula nervosa un assone e noi mandiamo a questo assone un segnale chimico che fa sì che una sua molecola che è un recettore che sta sulla superficie questo di recettore ci tornerà comodo tra un attimo quindi una proteina che sta sulla superficie e che annusa l'ambiente esterno se riceve la molecola giusta questo recettore la chiappa e porta questo segnale dentro la cellula quindi entra nella cellula e si muove per portare il segnale adesso vedete in tempo reale piuttosto ingrandito una proteina che si sposta all'interno della cellula ecco la lì va con una certa velocità sta andando sta camminando all'indietro dentro questo lungo filamento che è il neurone l'assone del neurone e va verso il nucleo si chiama trasporto retrogrado questo vuol dire che noi possiamo davvero studiare i processi molecolari durante lo svolgimento della vita senza perturbarla controllandone la funzionalità vedendone le alterazioni rispetto al funzionamento nominale e ideale si tratta di modificare giustamente gli stati elettronici delle proteine la natura lo fa se vogliamo colori ci sono cose meravigliose basta andare sott'acqua tipicamente e si trovano cose bellissime sott'acqua nei posti giusti naturalmente ma abbiamo imparato a modificarle al computer le possiamo programmare possiamo dare loro le proprietà che vogliamo e quindi per esempio abbiamo tutti i colori disponibili ognuna di quelle provettine contiene una proteina diversa che è stata un po' modificata in modo da modificare quella biscia blu che ho mostrato prima dell'elettrone in modo che fosse dal violetto fino al rosso ma di più si può insegnare dell'alto la proteina che francamente la medusa non aveva in mente si può insegnare a questa proteina a studiare e analizzare l'ambiente per noi può diventare il sensore e questa è una cosa che francamente ci dobbiamo prendere merito come specie perché la medusa non ce l'aveva davvero in mente modificando in maniera opportuna quello stato elettronico là e pensate la cosa divertente che è la modifica che è stata trovata da uno studente alla scuola tra l'altro comunque questa modifica che vi mostro sapete che una proteina è uno spaghetto lunghissimo che poi si ripiega in una certa forma la zona del filamento la zona dove viene formato l'elettrone che produce la luce è una zona che sta abbastanza intorno alla posizione 50 di questa lunghissima catena pensate che la modifica è stata fatta da una posizione 200 della stessa catena perché uno deve tener conto di come la proteina si ingarbuglierà per modificare per modificare l'ambiente in maniera opportuna guardate che fa questa proteina se viene prodotta all'interno di una linea cellulare che non mi ricordo qual è ma non è importante questa proteina cambia le sue proprietà a seconda dell'ambiente in questo caso stiamo guardando una misura che ho scelto perché mi pare semplice da capire il pH l'acidità dell'ambiente d'accordo se il pH è più o meno quello fisiologico è bella brillante se lo facciamo scendere comincia a diventare brillante fino a spegnersi quasi completamente cosa importante se ritorniamo all'acidità normale questa ritorna bella brillante di per sé che cambi così l'intensità non sarebbe una cosa furbissima quello che fa sì che questa cosa sia una cosa furba è questo che è un grafico un pochino complicato e quindi ci dedico 15-20 secondi per spiegarlo quello che vedete qui sono tante curve che rappresentano il tipo di luce che esce da queste cellule a seconda di quanto vale il pH di quanto è acido l'ambiente vedete che le curve cambiano il profilo la forma della luce la distribuzione in frequenza della luce è diversa ma la cosa che rende questa una cosa furba è il fatto che c'è un punto in cui non cambia mai il fatto che indipendentemente dal pH dall'acidità la luminescenza qui la luce qui si ha sempre la tessa intensità fa sì che se noi facciamo un rapporto tra questo valore e questo valore che è costante abbiamo un numero che dipende soltanto dall'acidità non da quante proteine ci sono qui non è che solo si spegne ma si spegne in maniera furba questa proteina questa è la cosa intelligente di questo disegno questo è un primo blocchetto sensore semplice ovviamente era troppo banale quindi questo è diventato il blocco di un sensore più complicato che comincia a mostrarvi che contiene vari domini perché vogliamo imparare anche delle altre cose vogliamo imparare non soltanto quanto vale il pH ma quanto cloro c'è nell'ambiente e abbiamo finalmente un dominio sensore che comincia a piacerci quindi questo insieme di proteine artificiali che sono state costruite in modo tale di avere la sensibilità all'acidità al cloro può adesso essere utilizzato all'interno di un organismo per misurare questi parametri per fare questo dobbiamo aggiungere il dominio che dice dove vogliamo misurare quindi aggiungiamo un altro pezzetto preso dalla natura non è importante pensate davvero non è importante le vanno a posizionare nei posti giusti è differente a quali sono e otteniamo quindi la figura che vi ho fatto vedere prima in quel disegno queste sono cellule vive che stanno svolgendo le loro funzioni e quello che vedete è una mappa falsi colori che vi dice quanto vale il pH e quanto cloro c'è in diverse parti della cellula e noi sappiamo quali parti sono perché abbiamo indirizzato il nostro misuratore nel posto specifico questo si può fare in una cellula ma si può fare poi in un intero organismo e questa immagine che mi ha prestato anzi regalato perché è generoso Gimmi Ratto che mi ha introdotto vi fa vedere questo tipo di misure all'interno della testa di un animale vivo mentre sta ragionando mentre nel caso specifico sta avendo una crisi epilettica che è quello che viene studiato con queste metodologie qui quindi cose che hanno un impatto come vedete negli studi reali e nell'analisi biologica fatta in modo piuttosto raffinato però poi non vi interessa nulla dell'analisi biologica in modo raffinato e a voi interessa essere curati bene io lo so perché è quello che alla fin fine la nostra specie su cui è veramente motivata e allora uso gli ultimi minuti che mi restano per farvi vedere cosa vuol dire utilizzare l'anomedicina in modo terapeutico e faccio l'esempio che è il più facile che è quello più interessante che è quello che vi aspettate ovvero il cancro torniamo al nostro oggetto e vediamo come deve essere utilizzato per diventare un farmaco anticancro intelligente e innovativo come sapete una delle tecniche che viene utilizzata farmacologica è quella che si chiama chemioterapia come penso quasi tutti sappiate la chemioterapia sostanzialmente è un approccio basato sul mandare un veleno che uccide le cellule la metodologia opportuna è quella che tutti cercano e che si fa con diversi gradi di efficacia è quella di uccidere solo le cellule giuste naturalmente solo nel caso specifico le cellule tumorali avete sentito parlare degli effetti collaterali della chemioterapia qualcuno ne ha anche provanti questo deriva dal fatto che una frazione del veleno è andata nei posti sbagliati quindi ha ucciso le cellule sane le cellule buone peita di capelli nausea astenia vari tipi di conseguenze gravi e gravissime che in qualche caso fanno sì che non si possa neanche utilizzare la terapia quindi lo sforzo è quello di portare questa molecola killer soltanto nei posti giusti la medicina ha fatto progressi molto importanti e il il dosaggio che viene utilizzato è sistematicamente ridotto perché si riesce a fare un dosaggio più mirato e così via ma non siamo ancora alla situazione ideale che è il 100% del farmaco consegnato alle cellule giuste e non solo quando lo dobbiamo prendere il farmaco lo dobbiamo prendere quando la malattia è già conclamata quando è stata scoperta una massa per esempio in un tumore solido no è già troppo tardi ha già fallito la medicina quando siamo arrivati a questo il progetto della nanomedicina è quello di andare a curare il paziente sano ovvero è quello di andare a eliminare le cellule tumorali prima che ci siano i sintomi prima che sia arrivata una massa se di massa tumorale si parla questo è il punto di vista e qual è l'idea? l'idea è esattamente sotto il nostro naso si tratta di utilizzare bene il targeting si tratta di portare le molecole al 100% nel posto giusto ci sono tanti approcci in questo momento e come vi dicevo il grado di precisione con cui questo viene fatto sta crescendo nel tempo io vi faccio vedere un esempio che è il lavoro di uno studente della scuola che peraltro è presente in sala e sei pure in piedi questa è un'ingiustizia che tu sei in piedi devi stare seduto in prima fila perché lui ha utilizzato come sostanza per fare questa scelta una particolare che si chiama aptamero che è un pezzetto di acido nucleico come il DNA per intenderci questo aptamero ha la proprietà di andare a coniugarsi a legarsi a un recettore ecco la parola che torna particolare questo è un recettore che è molto presente sulla superficie sulla membrana di alcuni tumori molto importanti solidi questo vuol dire che mandando questo oggetto nel nostro organismo anche liberamente questo preferenzialmente ha da attaccarsi proprio sulle cellule tumorali anche prima che noi sappiamo che ci sono le cellule tumorali questa è la cosa importante questo non è importante perdonami se non lo mostro questo dato allora l'oggetto divertente che ha costruito è un oggetto che contiene questa parte che fa il targeting approfittando del fatto che è un acido nucleico ha coniugato questo con un farmaco antitumorale molto diffuso che si chiama doxorubicina che esercita la sua azione proprio andandosi a infilare dentro il DNA uccide le cellule perché si infile nel DNA e smette di far funzionare il DNA quindi in coda alla parte di targeting ha aggiunto un pezzetto di DNA in questo ci ha infilato la doxorubicina poi siccome voleva strafare ci ha messo un altro pezzo che è più complicato da spiegare quindi non ne parliamo quello che è importante è che questo insieme qui questo sarebbe l'intero oggetto tondo colorato che vi ho mostrato prima non bisogna pensare quelli sono dei schemi insomma questa è una versione un pochino più realistica se voi date se voi date la doxorubicina il chemioterapico che vi dicevo a delle cellule tumorali o a delle cellule sane la doxorubicina come vedete il segnale verde entra sia nelle une sia nelle altre non è selettiva fa fuori tutto quello che trova non viene fatto così in medicina ovviamente viene incapsulata attualmente in maniera opportuna non siamo così primitivi come scienza medica per carità come specie ad esempio io non sono un medico però vedete la doxorubicina non è assolutamente selettiva l'oggetto che vi ho mostrato invece quello va preferenzialmente in maniera dominante nelle cellule tumorali non nelle cellule sane che ci stanno intorno qui si capisce poco ma si capisce bene se guardate qui qui quello che vedete è la percentuale di cellule che sopravvive dopo essere stata esposta a quell'oggetto complicato a quel nanofarmaco che vi ho mostrato se voi date solo il farmaco chemioterapico vedete che questo è il 100% circa la metà delle cellule sane circa la metà delle cellule tumorali vengono eliminate questi sono tumori al pancreas se ricordo bene ma insomma non è particolarmente importante sono fatte eliminate la metà tutte e due non va bene non è accettabile guardate che succede invece se mandate il farmaco impacchettato e targettato praticamente la totalità delle cellule sane non è stata affetta vive al 100% e le altre sono eliminate sempre al 50% questo è un passo nella direzione giusta non è tutto risolto sia chiaro questi oggetti devono essere ulteriormente perfezionati ulteriormente ingegnerizzati quello che c'è di positivo è che queste cose avvengono non soltanto nei laboratori di ricerca ma avvengono anche già nelle industrie farmaceutiche siamo già ai test clinici quindi sono in arrivo questi farmaci nuovi e abbiamo la speranza di poterne beneficiare già nella nostra aspettativa di vita voi avete il vantaggio che sapete un po' come funzionano funzionano perché qualcuno ha trovato il modo di plasmare gli elettroni dentro queste molecole dando loro le proprietà di selettività le proprietà farmacologiche desiderate e di farlo in maniera molto mirata non per un effetto magico non per un fatto statistico ma con precisione e con esattezza perché si tratta di oggetti che sono stati nanostrutturati nella maniera desiderata e con questo messaggio vi ringrazio molto buonasera a tutti sono Marco Valdes coordinatore del progetto VIS e ringrazio il direttore Beltram per questa per questa immersione nel microscopico e nel mondo degli elettroni che nanoscopico è vero è vero lo svendo che abbiamo scoperto che fanno anche cose brutte e inopportune che però comunque conoscerli veramente permette delle applicazioni incredibili e vi ricordo che dopo le domande che potrete fare adesso ci sarà un breve rinfresco nella sala del gran priore che è qua di fronte e quindi vi passo la parola a voi per fare delle domande al direttore Beltram grazie se è detta così se fate le domande non vediamo il rinfresco non è molto comunque questo metodo selettivo per individuare le cellule tumorali individua praticamente sul citoplasma di queste cellule qualche proteina che sul tessuto non c'è però quindi va individuata prima la proteina per individuare la cellula malata poi vedete che questa proteina su un altro tipo di tessuto magari ha un'altra funzione e magari può danneggiare altri tessuti cioè magari è selettivo per certe alcune cellule e magari no e quindi altri tessuti il problema si tratta quindi di trovare le proteine giuste sempre che alcuni cioè una parte dei tumori non esprime sul citoplasma le proteine che evidenziano il suo stato cioè lo stato della cellula abbiamo capito abbiamo capito grazie è assolutamente corretto il commento le cose vanno fatte giuste non vanno fatte sbagliate e ci mancherebbe altro questo è il punto di partenza il tipo di struttura che abbiamo descritto che vi ho mostrato nella parte finale di questa chiacchierata rappresenta una strategia affidabile se sono soddisfatte alcune condizioni quelle che giustamente le ho elencato primo dobbiamo sapere cosa stiamo andando a cercare se non sappiamo qual è la caratteristica peculiare che identifica in maniera univoca quella particolare cellula o qual è l'insieme di caratteristiche che identificano in maniera univoca quella particolare cellula perché non ho detto che debba essere una sola non possiamo farlo ma se lo sappiamo quando abbiamo imparato come funziona quel sistema a quel punto potremo costruire un oggetto specifico in tutti i casi in cui noi abbiamo questa conoscenza molecolare del fenomeno e per fortuna abbiamo io ho fatto anche vedere intuire abbiamo adesso la capacità di studiare gli aspetti molecolari di questi fenomeni biologici dicevo quando abbiamo questa capacità allora possiamo metterci a lavorare possiamo costruire il nano oggetto che svolga questa funzione in maniera mirata buonasera abbiamo visto tornando a prima il computer quantistico ecco ok abbiamo visto il principio di funzionamento il computer quantistico ecco con il qubit ok la mia domanda è questa bene eliminiamo gli elettroni e abbiamo i fotoni ecco è possibile creare il qubit il computer quantistico fotonico sappiamo benissimo che i fotoni viaggiano a velocità della luce e quindi avrei dei computer quantistici fotonici abbastanza veloci e quindi il computer ecco andrebbe a velocità supersonica diciamo a velocità della luce è molto più veloce della velocità dei famosi elettroni però ecco sappiamo benissimo che un computer poi viene alimentato tramite corrente elettrica quindi il mio discorso è fare solo cercare di fare solo fotoni e non puoi convertire in elettroni cioè quello è il problema perché poi quando passiamo fra fotoni ed elettroni la velocità poi viene ridotta perché un computer viene alimentato ecco quindi allora la domanda è assolutamente corretta io vi ho parlato abbiamo parlato oggi di elettroni abbiamo parlato di elettronica esiste una scienza che si chiama fotonica è possibile costruire sistemi con in cui diamo facciamo comportare i fotoni in maniera simile o uguale ad esempio che ho fatto io quindi linea di principio è possibile costruire un computer fotonico è un fatto essenzialmente tecnologico non un fatto di principio tentativi per costruire computer fotonici classici sono stati fatti in realtà i computer fotonici esistenti sono lentissimi perché la lentezza del del funzionamento non deriva dal fatto che gli elettroni vanno fra virgolette piano perché le distanze in gioco sono assolutamente trascurabili la lentezza deriva dai fenomeni parassiti la commutazione l'esempio che facevo fermare l'elettrone costa più tempo non è il fatto che poi l'elettrone va più piano o più veloce ma non esiste nessuno credo che possa dire in linea di principio quello che è vero adesso sarà vero sempre ovvero adesso è sicuramente vero che i computer basati sugli elettroni sono più veloci più affidabili li sappiamo fare meglio ma la parte li sappiamo fare meglio è determinante in quello che sto dicendo per cui non si può dire che necessariamente un computer fotonico sia più lento cercavo di individuare il punto dove un fisico avrebbe dovuto tra virgolette arrabbiarsi ma non l'ho trovato grazie essendo tu un fisico mi fa anche piacere no è interessante diciamo il passaggio dalla visione corpuscolare la pallina il modello dell'elettronico come una pallina e quantistica la pallina che ruota al modello ondulatorio diciamo ormai una digestione che i fisici hanno fatto da diversi decenni però naturalmente è ancora molto diciamo è molto interessante vedere come evolve il modello ondulatorio nel passaggio da una struttura atomica che è quella che è stata studiata di più dai fisici alla biologia e questo è certamente molto interessante e però mi sembra qui vado in terra incognita mi sembra che ci sia una qualche analogia è come se mancasse ancora l'effetto quantistico cioè lo spin nella presentazione che tu ci hai fatto nella descrizione che tu ci hai fatto estremamente interessante emerge solo tra virgolette solo il comportamento ondulatorio ondoso dell'elettrone se io non ho capito male se io non ho capito male però mi chiedo se si può sfruttare anche in qualche modo il comportamento quantistico cioè lo spin dell'elettrone perché certamente questa informazione è ancora lì va bene e quindi ci sono ci sono è giustissimo quello che dice Flavio il io non ho parlato di spin esplicitamente ma lo spin stava in moltissimo di quello di quello che ho detto però perché questa non diventa una conversazione tra fisici di cosa stiamo parlando gli elettroni hanno una serie di proprietà hanno una carica che più o meno tutti lo sappiamo è una carica negativa ce ne accorgiamo perché reagiscono sotto un campo elettrico in un certo modo hanno una certa massa pesano un tot se li mettiamo su un bilancio è sufficientemente semibile hanno anche un comportamento in presenza di un campo magnetico in presenza di un campo magnetico gli elettroni si comportano in un certo modo pensate si comportano come si comporterebbe una pallina grigia carica che ruota su se stessa a una velocità ridicola perché dovrebbe per quanto se la prendete ragionevolmente la superficie della pallina dovrebbe andare molto più veloce della velocità della luce quindi tutti sappiamo che questa è una stupidaggine non succede comunque qualitativamente una pallina grigia carica che ruota su se stessa in un campo magnetico si comporta in quel modo questa proprietà che l'elettrone ha e che una pallina impossibile peraltro ruotante avrebbe ha un nome potrebbe avere un qualunque nome si chiama spin potrebbe chiamarsi in un altro modo irrilevante allora se io vi dico che l'elettrone ha una carica non reagite in maniera reagite con uno sbadiglio giustamente se vi dico che l'elettrone ha uno spin sentite l'esigenza che io vi dica si comporta come una pallina che eccetera spero di no perché dovete accettare il fatto che la natura ha certe proprietà poi possiamo magari andare ad analizzare perché ma non è solo nel punto come l'elettrone ha una carica ha una massa ha questa proprietà che noi chiamiamo spin io non sento personalmente l'esigenza di dire al mio interlocutore guarda visto che so che non riuscirei mai a capire questa parola che non conosce allora pensa all'analogia che eccetera questa è una proprietà intrinseca della particella tanto quanto la massa occorre che vi dica l'elettrone ha la massa perché tutto sommato è una gallina e le galline hanno massa quindi per spiegarvi cos'è la massa vi dico è un po' una gallina è una stupidaggine vi indignate bene indignatevi anche per lo spin lo spin è una proprietà intrinseca non gira niente certo non è che sia irrilevante è determinante per decidere come si comporterà un elettrone a parte in un campo magnetico ma anche in altre situazioni per cui tutti quegli stati che vi ho fatto vedere sarebbero diversi se le proprietà di spin fossero diverse io non mi sono soffermato su quello perché non volevo mettere troppa carne al fuoco vedete anche il dualismo onda particella è una cosa che dovreste respingere perché il fatto che qualche cosa in alcuni casi si comporta come una cosa in altri casi si comporta come un'altra non vuol dire che allora tutte e due queste cose io faccio sempre un esempio in questo caso che è la giraffa qualcuno me l'ha senz'altro sentita raccontare questa cosa qui perché io la trovo deliziosa la giraffa che io dico giraffa vi si informa in testa l'immagine della giraffa perché l'avete vista allo zoo in televisione eccetera la giraffa originariamente non aveva un nome perché era un oggetto troppo misterioso e fu confezionato il nome camelopardo si chiamava camelopardo perché era un po' un cammello veniva dal Nordaf fin dall'Africa aveva delle zampe lunghe eccetera però aveva delle macchie come il leopardo la nostra specie l'ha fatta subito duale e l'ha chiamata camelopardo però diamine era una giraffa ecco l'elettrone è un po' un camelopardo se vi ostinate a dire che è un oggetto duale ma è una giraffa è un elettrone ed è fatto così e dobbiamo rassegnarci bene se non ci sono altre domande ringraziamo ancora il direttore Beltram grazie 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 a tutti grazie a tutti